Nuovo arrivato in casa gialloblu. La palla in campo e c'è l'Eis per Dragan Stankovic. Errore di valutazione di Selacek. Se hai bisogno di una scintilla vedremo se l'avrà innescata. Vediamo se è un piccolo segnale di cedimento. Stankovic, Eis. E allora dopo l'errore di Zavoronok, l'Eis di Stankovic. Improvvisamente Modena. Stankovic va la battuta! Il numero 7 firma un altro Eis per il 9-7 di granito Stankovic. Terzo Eis personale per Dragan Stankovic che non ne vuole sapere di fermarsi.